Cattiva gestione degli autovelox, il centro tutela consumatori utenti di Bolzano chiede risarcimento per gli automobilisti, ce ne parla Elisabetta Cardinali. Sono due le sentenze della Cassazione che sanciscono l'illegittimità di alcune pubbliche amministrazioni nella gestione degli autovelox. Il CTCU Altoatesino chiede ora che vengano immediatamente ha rimborsate le contravvenzioni in tutti i casi in cui sul territorio ci sia stata violazione delle regole da parte dei comuni. Nel mese di gennaio del 2010 la Corte Suprema aveva respinto il ricorso del comune di Lagundo contro una sentenza del Tribunale di Bolzano. La procura del capoluogo aveva infatti annullato i verbali di supposta violazione al codice della strada recapitati ad un automobilista. A febbraio poi, sempre per Lagundo, la Cassazione ha confermato il sequestro di apparecchiature autovelox la cui gestione era stata affidata a privati. Due sentenze della Cassazione prevedono che i comuni non possono affidare dei servizi per esempio di emissione delle multe a delle ditte private. Queste multe sono illegali. Noi adesso valuteremo se questa sentenza possa essere applicata anche a tutti gli automobilisti che in quel periodo, fino al 2007, sono in corso nella stessa situazione. Il centro tutela consumatori ed utenti di Bolzano si dice costretto a ricorrere alle vie legali qualora i comuni ai quali verranno inoltrate le formali richieste di risarcimento non dovessero rispondere positivamente. Per quanto riguarda le apparecchiature illegittimamente gestite da società private, il centro si riserva di richiedere le opportune verifiche all'autorità giudiziaria competente.